Riformare la giustizia coinvolgendo i cittadini. Il Popolo della Libertà appoggia anche a Salerno la raccolta firme lanciata dai radicali con l'ambizioso obiettivo di riuscire a coinvolgere almeno 50.000 sottoscrittori soltanto nel salernitano, la metà di quelli previsti per la campania. Dopo l'annuncio di venerdì scorso a Napoli, questa mattina l'adesione del PDL alla campagna referendaria dei radicali per la riforma del sistema giudiziario è stata presentata anche a Salerno dal commissario provinciale Mara Carfagna e da diversi esponenti del partito. La Carfagna si è anche spesa contro la soppressione dei tribunali dicendosi preoccupata, convinta che la razionalizzazione dei costi non debba avvenire a scapito dei diritti dei cittadini. Per la Carfagna inoltre occorre impegnarsi per una giustizia efficiente e terza non legata a possibili pressioni. Il PDL intanto guarda la riorganizzazione del partito sul territorio continuando nei micro congressi cittadini per alleggere un delegato in ogni comune. A due mesi dall'avvio del processo di riorganizzazione ne sono stati ratificati 40 con l'obiettivo di concludere in tutta la provincia entro l'anno. La prossima settimana inoltre sarà presentato il nuovo coordinamento cittadino del capoluogo, una serie di iniziative utili a riavvicinare la dirigenza al territorio puntando al ritorno a Forza Italia e al cambio del simbolo come deciso da Berlusconi. Salerno è prontissima alla rinascita di Forza Italia, il sentimento di adesione nei confronti di quel partito, nei confronti dei valori e dei principi di quel partito non si è mai spento. Il merito di Forza Italia negli anni passati è stato quello di aver creato un collegamento fortissimo tra il partito e la sua base, un collegamento che forse in questi ultimi anni si è un po' perso. Allora noi vogliamo riscoprire intanto quell'entusiasmo sincero che Forza Italia aveva anche all'interno della sua dirigenza e poi soprattutto la capacità della dirigenza di essere presente sul territorio e di costruire un collegamento con tutti i comuni della provincia salernitana. Noi siamo pronti, devo dire che abbiamo avviato questa riorganizzazione già da un po' e quindi siamo felicissimi di ritornare alla bandiera di Forza Italia.